Già in passato abbiamo più volte denunciato la situazione critica dei trasporti, pendolari, studenti, lavoratori che pagano gli abbonamenti annuali ma restano a piedi perché mancano i mezzi, perché mancano gli operatori, perché si sbaglia nelle assunzioni che vengono fermate da un lato, quelle appunto dei manutentori o degli autisti e quelle che vengono accese dall'altro, i cosiddetti amministrativi. In tutto questo è stato il presidente dell'azienda dei trasporti abruzzese a chiedere una commissione d'inchiesta, il presidente Marsiglio ha rilanciato che era opportuna, il Partito Democratico ha detto da subito siamo assolutamente d'accordo per fare chiarezza e proprio perché c'era una convergenza e c'è, noi riteniamo, una convergenza di tutti abbiamo raccolto le firme per la commissione d'inchiesta che vuole ovviamente controllare tutto ciò che sta avvenendo nella programmazione dei trasporti in regione Abruzzo. Le opposizioni tutte, le ringrazio, hanno già firmato, bastano otto firme ma abbiamo già raccolto le 13 firme dei consiglieri regionali di opposizione, oggi sta alla maggioranza rispondere a quest'appello e essere coerente. Hanno lanciato loro l'idea della commissione d'inchiesta, abbiamo una gran voglia di procedere per dare chiarezza ai tanti cittadini che rimangono a piedi e ai tanti operatori che soffrono, a nostro avviso, una mancanza di programmazione e oggi una inefficiente gestione dell'azienda dei trasporti.